Che cosa bisogna fare per prendersi cura delle nostre piante in estate? Lo vedremo subito dopo la sigla. In Italia l'estate è sicuramente il periodo più difficile per le nostre piante. Premesso che piante sane e resistenti agli stress ambientali possono aversi soltanto su terreni fertili, è necessario all'inizio dell'estate andare a sostenere le piante tramite una concimazione mirata a rafforzarle durante i mesi caldi. Una volta effettuata la concimazione pre-estiva, in estate non c'è molto altro da compiere se non operazioni di potatura. Infatti in estate le piante entrano in un periodo di riposo vegetativo simile a quello invernale. In particolare riducono drasticamente la traspirazione per evitare di disperdere nell'aria troppi liquidi. Questo momento di quiete ci permette di intervenire sulle piante con tre tipi di potatura ben mirati. Prima di tutto si può intervenire sugli arbusti che hanno fiorito durante la primavera. Si possono quindi rimuovere i fiori appassiti e si può sistemare la pianta rimettendola in ordine. Un secondo tipo di potatura che si può effettuare durante luglio ed agosto è la cosiddetta potatura verde. La potatura verde consiste nel rimuovere i polloni e i succhioni, ovvero i ricacci lungo il tronco e al centro della chioma della pianta, che sono ancora verdi, non hanno cioè lignificato. Effettuare la potatura verde farà sì che poi, quando andremo ad effettuare la potatura principale alla fine dell'inverno, avremo molta meno vegetazione da rimuovere e quindi la pianta subirà uno stress minore. L'estate è infine il periodo ideale per potare le piante particolarmente sensibili ai tagli. In estate, infatti, le piante sono al massimo del proprio livello energetico, venendo esse dal periodo primaverile in cui la fotosintesi avviene in maniera molto efficace. Avranno quindi molte energie per poter richiudere prontamente i tagli e questo fa sì che per piante che faticano a chiudere le ferite, l'estate sia il periodo migliore in cui andare ad effettuare la potatura. Ecco quindi le semplici operazioni da fare per garantire il benessere delle nostre piante durante i mesi più caldi, una concimazione preestiva ed interventi mirati di potatura che ci permettano di tenerle in ordine. Grazie